Buondi a tutti e bentorni al programma Entra la nostra dente. Mi sono Sara per l'Istituto Ladin e in coesione a Senza Iniga Gordino alla Falegna Meria La Sgubia. Allora, la Falegna Meria La Sgubia era partita appunto come una normale Falegna Meria, come che se la ora le niente ai nostri posti, per arrivare a un'idea innovativa, per arrivare a un altro settore, estremamente innovativo per la Gordino, che è l'ecchiel della produzione dei chitarre, dei bassi. Allora, Patrick, siamo qua con il Patrick e con il Christian. Patrick, mi hai detto da dove hai una sesta idea, un polle, come se poi l'essi? Allora, l'idea è nata molto semplicemente, mi suona, provi a suonare il basso elettrico. Quindi, mi hai detto al Christian, fammi un basso che solo mi hai da avere un basso che solo mi hai da avere. Che sei in Pizzana, Luce, no? In tei occhi, più come sfida in tei primi momenti. Insomma, mi volevo in pochi anni, perché dopo si è un attimo sviluppato con la Falegna Meria e con tutto. E comunque l'ha fatto questo basso e che il dì che l'avamo provare e suonare bene, e là l'è stata una scintilla che l'è sciopata nella sua testa. E là, insomma, siamo a provare, a fare chitarre, a studi, a provare, a esperimentare qua, a esperimentare là, e l'è partì, sta roba, insomma, ormai è diventata una produzione, ecco. E mica è data in Cina, ma anche un cino di folia, un cino di coraio, e adesso sono qua, che fanno chitarre, bassi, di tutto, insomma. E per quanto riguarda appunto la produzione, Christian, postone di che, come, non sai, come materiali, onde che sei su, insomma, perché le chitarre, i bassi, i presuppone un certo tipo di materiale? Sì, bisogna fare una differenza tra le chitarre acustiche, le chitarre classiche, le chitarre elettriche e i bassi elettrici. Allora, sulle chitarre acustiche classiche, che mettono praticamente il PES, l'AIR, e Mogano, e altri materiali, ma, principalmente, quel che fa la differenza, le e il PES, che andano a scegliere via per la Val de Fiemme, che si è perfetto. Invece, sull'elettrico, e sull'elettrico, sia sui bassi che sulle chitarre, si avevano spaziati, in attimo, su tantissimi tipi di legno, sempre Mogano, sempre PES, però anche Venghe, che è un legno che pochi conoscono, anche se è molto pesante e difficile da laureare, e il Pero, strutturalmente, le ha varie forme, e le sta a costruire per diversa tipologia di persone, che le pilleggere, ad esempio, che le pilleggere, e le va su una persona, magari un attimo più gracilina, che la tende comunque, dopo un tot di ore, a suonare, a se stracare, a sentire questa pesantezza d'os, per arrivare a quelle di Mogano, o di Pero, che le più pesanti, e voi sottolinea il fatto che, comunque, una chitarra, un basso elettrico, la diversa tipologia del legno fa un... si sente diverso il suono. Non è solamente la parte elettrica che fa, ma anche il legno fa tantissima differenza. Diciamo che comunque non si può dire che sia una roba facile creare dal NIA delle chitarre, dei bassi. Come se arrivai a diventare così da bravi? No, non è assolutamente facile, perché le, tantissimi elementi, a partire appunto dalla scelta dei legni, la parte difficilissima della verniciatura, che le è un elemento veramente importante, è altrettanto difficile, e nessuno ti insegna NIA. Allora, noi siamo riusciti a s'evolvere, come che fa un po' tutti, per prove, tentativi, confrontandosi con i musicisti che fa Pro-A, pronti a ricevere le critiche costruttive dei musicisti e dei altri, gli utai. Là l'è difficile, però qualcosina te carpisse sempre, no? E sperimenti, specialmente, come che ripete sulla verniciatura. Sperimenti, tocco il legno, ciappai, buttai via, prove, cambia, fai, e man mano ogni otta l'è un miglioramento che siamo ancora a Drio a portare avanti. Infatti, dal primo basso a sto momento in cui noi adesso comunque se siamo anche aperti al mercato, come per esempio partecipando alla fiera Francoforte, e dalla prima o basso alla prima chitarra che, diciamo, fondi sul mercato ampio, le passa tre, quattro anni di esperimenti, di prove e quant'altro. ecco. Allora, mia, sai che lei ha anche la possibilità, insomma, di fare una chitarra unica che la poteva essere per ognuno la sua chitarra. Insomma, mi parli tu in cinesta roba, Cristian. Sì, allora, ne capita tante volte che passa della gente e mi domanda o mi porta un disegno di chitarre o bassi che i vuole personalmente, cioè personali, suoi, proprio da un proprio disegno o da un disegno che mi viene mi spontaneamente e mi realizza questa versione di chitarre bassi che si chiama Custom e con le caratteristiche del legno ma anche della parte meccanica ed elettrica della chitarra in base alla tipologia di musica comunque che fa il musicista perché da un metal a un country passa tantissime tantissime differenze nell'ambito costruttivo della chitarra nell'ambito elettrico della chitarra sicuramente e l'iter del tutto il discorso è che si tratta di una volta con il musicista perché fa vedere i progetti perché fa vedere la parte elettrica perché fa vedere tutti i disegni e dopo pian pian logicamente la tipologia del legno che che piazza e andiamo avanti finché la chitarra la viene prodotta come fa col Patrick col basso si sviluppa con tutti i musicisti e ognuno comunque ha le sue caratteristiche perché ogni musicista vuole una tipologia di strumento adatta a el come prezzi da che fasce che fasce si vanno allora noi siamo su una fascia media chiaramente lo strumento costruì totalmente in maniera artigianale di conseguenza ha un suo valore anche aggiunto oltre proprio al valore costruttivo e si aggira dai 1300 ai 1600 euro quei che noi fanno di linea base i custom i vol varia tantissimo in base alle richieste del cliente ecco la media si muove sui 2000 euro ecco come proprio idee generali beh voi si è assolutamente l'esempio del fatto che in test vai non si può dire che l'attività la si è morta ma che basta la voia che basta l'intenzione anche all'energia appunto e si può creare delle robe bellissime si è proprio la voia che è la base di tutto anche di risciare un attimo perché per me è stata un'avventura uno studio molto intenso per costruire proprio perché non sarei assolutamente niente sono arrivato a un prodotto ancora a imparare però logicamente sono arrivato a un buon prodotto si basta avere voia di fare sicuramente voia di risciare anche tante persone che le ha qua in zona che le ha delle bellissime idee che poi magari le viene bloccate da qualche meccanismo che le blocca proprio ma sia sulla scultura sia nell'ambito dei strumenti musicali qualsiasi altra tipologia artistica ma sul ferro e così l'importante è che crede è ancora la strada abbastanza lunga però con l'aiuto anche del Patrick e dei miei collaboratori hai dei buoni presupposti per il futuro sì bene grazie allora per questo esempio insomma appunto di voi e di fae di innovazione fra la gordino dalla falegneria alla sgubia e dalla liuteria appunto mi saluto alla prossima volta grazie a Patrick e grazie a Cristian ciani